ciao buongiorno o buonasera a seconda di quando vedrete questo video sono valentina lievi sono nata a milano dove vivo ho quasi 32 anni e dunque un po per tutti gli attori o per la maggior parte il video di presentazione è un problema perché mette un po a disagio poi c'è una categoria di persone che sono quelle che sono un po logorroiche tipo me che si iniziano a parlare oggi della propria vita nel proprio percorso probabilmente finiscono domacchina quindi io vi risparmio questa cosa potete leggere tutto quello che dovete sapere sul mio curriculum vi posso dire che parlo inglese I can speak English fluently, je parlo un po di francese, y hablo un pochito di spagnol e che dire mi piace viaggiare ho viaggiato molto nella mia vita con i miei genitori fin da bambina mi piace praticare sport è da due anni che pratico il cerchio aereo e mi diverte molto mi faccio tanti lividi però da soddisfazioni e vi faccio vedere i miei profili un altro momento che mi piace davvero tantissimo ciao grazie